Un pensiero positivo al Presidente della Regione Calabria, Onorevole Giuseppe Scopelliti, alla cortese attenzione del Professor Mario Caligiuri, Assessore alla Cultura della Regione Calabria. Signor Presidente, la Scuola Comunale del Pensiero Positivo di Soveria Mannelli, che mi onoro di rappresentare come Presidente, vuole contribuire ed edificare una Calabria nuova, ricca di entusiasmo e di positività, diffondendo la più difficile ma anche la più fruttuosa delle arti, l'arte di vivere e pensare in positivo. La Calabria, sempre lodata ed esaltata, anche grazie ai suoi viaggiatori, non può restare indietro nelle continue e numerose scommesse della modernità, non può restare paralizzata da ataviche paure e da limiti. La nostra scuola vuole stimolare e spronare i futuri dirigenti a riconoscere le enormi potenzialità della loro Regione ed a muoversi verso imprese grandi e belle che riescono a dare una nuova e sempre più positiva immagine della Calabria. In attesa di incontrarla e di avere il privilegio di aiutarla in questa nobile e grande missione, Signor Presidente, le invio uno speciale saluto, dedicandole queste straordinarie parole che un raffinato e colto viaggiatore ha dedicato alla nostra meravigliosa terra di Calabria. Lascio con commozione la più bella provincia della bell'Italia, questa regione più vicina delle altre al meraviglioso sole. Ciò che le altre parti del mondo hanno singolarmente di grande e di bello è riunito in Calabria. Nel grembo di questa amabile terra c'è il grande frutto della trasformazione del mondo, forse anche ormai prossima. La Calabria è una donna fiorente del fertile cielo, il marito, la madre terra ed il mare incororano questa donna in fiore, ma essa reca nel cuore un gigante, le cui convulsioni scuotono tanto spesso la terra. La sua nascita sarà annunciata con violenza dalle doglie della partoriente e queste doglie scuoteranno la terra in attesa da polo a polo fino a. Benedetto colui per il quale la voce del Signore è ben accolta, sia come mormorio sia come tuono, Fidric Leopold Vostolberg, entusiasticamente suo Florindo Polillo, scrittore e oratore motivazionale, presidente della Scuola Comunale del Pensiero Positivo di Soveria Mannelli Catanzaro.